La gratitudine è quel sentimento che deriva dalla parola grazie. L'abitudine della gratitudine può aiutarti a sentirti meglio, a sentirti in controllo e ad aumentare il tuo benessere e ad avere maggiore prosperità nella tua vita. Molte persone hanno tutto e nonostante questo si sentono profondamente infelici, sono stressate e sono tristi e ci sono anche molte altre persone che sembrano non avere nulla eppure si sentono felici, grati e pieni di gioia. Il segreto della ricchezza è la gratitudine. La gratitudine va al di là del chi sei o che cosa hai, dipende solo da quello che pensi. La ricchezza è uno stato mentale e chiunque può raggiungere la ricchezza diventando e sentendosi grato. Quando sei grato stai in salute, quando non sei grato sei stressato e sei povero. la gratitudine ti fa sentire presente nel momento. La gratitudine ci connette al presente e la gratitudine ci connette al nostro spirito e nutre il nostro cuore. Non puoi essere grato di avere paura nello stesso identico momento. Gratitudine è imparare ad essere felici con quello che sei mentre raggiungi quello che vuoi. Con la gratitudine alla fine di questo esercizio troverai uno stato emotivo positivo, semplicemente focalizzandoti sulle cose della tua vita di cui sei grato. Semplicemente apprezzerai l'abbondanza della tua vita attuale. Essere grato è il modo migliore per dare energia alla tua giornata ed iniziare al meglio ogni singolo giorno. Per iniziare adesso trova un posto calmo e sicuro dove sai che non verrai disturbato. Posiziona le tue mani sopra il tuo cuore. Permetti ai tuoi occhi di chiudersi dolcemente. Prendi un lento e profondo respiro per portare te stesso nel momento presente ed inizia il processo di sentirti più in pace con te stesso e più centrato. Respira lentamente dal tuo naso. Senti il battito del tuo cuore con le tue mani. Senti il senso di gratitudine che parte dalla potenza del tuo cuore, dalla bellezza del tuo cuore. Respira nel tuo cuore. Senti il potere del tuo cuore. Senti la forza del tuo cuore. Senti come batte. Lui è lì, è lì per te. C'è lì da sempre. Ringrazia il tuo cuore per averti portato fino a qui. Ringrazialo di quello che ti ha dato sin da quando eri un piccolo pargoletto. ringrazialo e respira dentro il tuo cuore. Mentre continui a respirare lentamente e profondamente, lascia che la tua attenzione resti dolcemente nel tuo respiro. Senti come il tuo corpo si muove ogni volta che entra aria dentro il tuo corpo. E ogni volta che esce, rilassa la tua faccia. Rilassa le tue spalle. Rilassa la tua pancia. Senti le tue gambe che si rilassano. Rilassa tutto il tuo corpo. Ora, prendi ogni preoccupazione della tua vita, com'è, ad esempio, la paura, la gelosia, l'irritazione, la rabbia, il giudizio. Le vidi sono lì davanti a te. Respira semplicemente dentro queste emozioni. Prendi aria e respira dentro queste emozioni. Guardale e permettili di uscire fuori dal tuo corpo ogni volta che butti fuori l'aria. E un altro respiro per qualsiasi altra emozione negativa. Respiraci dentro e lasciala uscire. Ora, metti la tua attenzione nell'area intorno al tuo cuore. Focalizzati nel sentimento dell'amore, della compassione, dell'empatia, del perdono. Chiedi al sentimento della gratitudine di mostrarsi nel tuo corpo. Ora. Sii paziente. Chiedi al sentimento della gratitudine di mostrarti tutti questi sentimenti. Qualsiasi siano i sentimenti che arrivano, non fare nulla. Sii semplicemente grato di quello che naturalmente arriva al tuo corpo. E quando arriva, lascia che il tuo corpo si arrenda al sentimento. Nota come si sente il tuo corpo e come sta la tua energia adesso. E se non arriva nessun sentimento a te, non ti preoccupare. Non deve per forza arrivare. È ok. Non devi sentirti obbligato a sentire qualcosa. Semplicemente arrenditi al tuo cuore e non alla tua testa. Lascia che arrivino a te tutti i momenti belli della tua vita di cui sei veramente grato. pensa ai momenti belli della tua vita per cui sei profondamente grato. Può essere qualsiasi momento, quando eri piccolino, quando eri con le persone che amavi. Concediti ed arrenditi al sentimento della gratitudine per questo splendido momento. Scegli tu quali momenti. Respira nel tuo cuore. Stai in quel momento mentre respiri nel tuo cuore. Guarda cosa i tuoi occhi vedono. Ascolta cosa il tuo cuore ti dice. Senti come ti stai sentendo proprio ora. Prendi tutto. Non pensare basta. Vivi questo momento. Sii presente con tutto te stesso. E respira nel tuo cuore. Quanta bellezza nella tua vita. Quanta magia nella tua vita. Quanta magia in questo momento. Di che cosa sei grato? Vi dice puoi moltiplicare la gioia, l'amore, la gratitudine. Regala a te stesso il dono della gratitudine. Non importa cosa sia successo nella vita, c'è sempre qualcosa per cui essere grati. Quando apprezziamo quello che abbiamo, la vita ci dà di più. È una regola universale. La vita ci darà ancora più cose per cui sentirci grati. Chi apprezzi? Visualizza le loro facce e fisicamente alza le mani al cielo per prendere queste persone e metterle fisicamente dentro il tuo cuore. Per che cosa sei grato? Forse tua moglie, tuo marito, la tua famiglia, il tuo amore, i tuoi bimbi, i tuoi amici, i tuoi nonni o i tuoi animali, raffigurali uno per uno davanti a te, alza le mani, prendili fisicamente e mettili nel tuo cuore. Prendi fisicamente come se volessi abbracciarli e mettili nel tuo cuore. Amplifica dieci volte, cento volte, mille volte il tuo sentimento. Nota come il sentimento diventa sempre più forte, sempre più forte. Di cos'altro sei grato? Per che cosa ti senti fortunato? Vai avanti e dillo, toccali, prendili fisicamente e mettili nel tuo cuore. Bravo, brava e ora respira. Focalizzati solamente sulla bellezza e il dono di questo momento e sull'esperienza, sull'amore, sulla gratitudine, sulla compassione che la gratitudine sta portando nel tuo cuore. Prendi la tua conoscenza dell'abbondanza, delle tue prospettive future, la tua espansione, la tua evoluzione, il flusso positivo che senti e l'empatia e l'amore e la luce e la tua abilità di essere potente in ogni momento. Le cose arrivano a te non per caso. Arriveranno a te grazie alla tua mente e al tuo duro lavoro, ma soprattutto al tuo amore. ora conto da uno a tre e voglio che tu dica la parola LIBERTÀ. Uno, due, tre. LIBERTÀ! Ora conto fino a tre e voglio che urli la parola LIBERTÀ due volte ancora più forte. Uno, due, tre. LIBERTÀ! Ora conto fino a tre e voglio sentire la parola LIBERTÀ urlata più forte che puoi. Uno, due, tre. LIBERTÀ! LIBERTÀ! Sentilo, vedilo, vivilo. Quando cominciamo a scoprire la gratitudine iniziamo ad essere grati per tutto ciò che abbiamo. E ora, quando sei pronto, lentamente apri gli occhi e prenditi un momento per vedere e sentire la bellezza della tua vita attraverso i tuoi occhi. Vedrai, amico mio e amica mia, che con la pratica imparerai a provare gratitudine ovunque sarai, in qualunque situazione.